Mauro Corona Shock, non mi lavo da due mesi e non cambio le mutande dal Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace Il mondo di Mauro Corona, noto scrittore, opinionista, alpinista e scultore ligno italiano, è un mix di mistero e provocazione che cattura l'attenzione di tutti Da ospite fisso su Mediasetà, è sempre carta bianca, Corona è diventato un'icona sui social ma le sue eccentricità non smettono mai di stupire Residente nel tranquillo paesino di Erto, Friuli Venezia Giulia, Mauro Corona ha sempre ribadito la sua avversione per la vita chiusa, definendosi uno zingaro Tuttavia, dietro il suo fascino selvaggio si nascondono segreti e abitudini fuori dall'ordinario Il confronto acceso con la giornalista bianca Berlinguer ha scatenato speculazioni sul loro rapporto, anche se entrambi hanno negato ogni coinvolgimento romantico Mentre Berlinguer è legata da anni a Luigi Manconi Mauro Corona vive una vita familiare con Francesca, di cui si sa poco, e i loro quattro figli Tuttavia, le stravaganze di Mauro Corona non si fermano qui Nonostante la sua fama, è noto per la sua trascuratezza personale, preferendo uno stile di vita rustico e anticonformista in nome della conservazione delle risorse naturali In una recente intervista radiofonica, ha rivelato abitudini sorprendenti Una doccia al mese, mutande cambiate settimanalmente e lo stesso paio di calzini per 20 giorni consecutivi Le sue motivazioni? Rispetto per l'ambiente e per la propria pelle, che afferma di voler mantenere in buona salute Ma le sue confessioni non lasciano che un alone di mistero Quanto possono influire queste abitudini sulle sue relazioni personali? E cosa penseranno i suoi cani della sua filosofia sull'igiene? Con Mauro Corona, ogni dettaglio è una sorpresa Ogni dichiarazione è una provocazione Cosa nasconde dietro il suo atteggiamento trasandato? Resta con noi per scoprirlo, e non dimenticare di condividere le tue teorie nei commenti